Scuole di Leffini Industria presentano un corso di alta formazione di 240 ore rivolto a 25 lavoratori autonomi, dipendenti o in cassa integrazione che intendono specializzare la propria attività nei settori dell'amministrazione, della finanza e del controllo dei progetti innovativi. Un corso a costo zero per le aziende, interamente finanziato dalla Regione Puglia e inserito nel catalogo interregionale per l'alta formazione. Questo corso è destinato a dipendenti di aziende, dipendenti in CIG e professionisti. C'è un punteggio che in base al titolo di studio, all'età, al sesso e al percorso lavorativo fatto durante questi anni, quindi vengono dati dei punti e quindi c'è la possibilità di accedere al corso. Ripeto, sono 25 persone che possono partecipare. Qui si parla di finanza, credito e quindi la possibilità di accedere da parte delle aziende a finanziamenti, rapporti con le banche. Quindi un settore abbastanza delicato, ma che in questo periodo di crisi è molto importante per le aziende. I partecipanti avranno poi l'opportunità di trasmettere quanto appreso ai propri colleghi. L'obiettivo qual è? Che poi, ritornando in azienda, possono trasmettere queste competenze a tutti gli altri collaboratori per far crescere e migliorare le performance dell'azienda. Diventa in questo momento indispensabile se vogliamo superare la crisi. Per iscriversi basta richiedere l'assegnazione del voucher formativo registrandosi al portale www.altaformazioneinrete.it e completare con la modulistica richiesta. Alcuni dei criteri di selezione sono la condizione occupazionale, l'età, il sesso, il punteggio di laurea o diploma e l'indicatore di reddito ISEE. Si può partecipare fino al prossimo 4 agosto.